Ci siamo? Parte finalmente una ripresa? In questo video di oggi andremo a vedere un po' di dati incoraggianti, interessanti e soprattutto andremo ad analizzare quella che è stata la mossa della Fed di tagliare di 50 punti base i tassi di interesse. Quindi sarà una bella puntata, non tanto lunga ma comunque densa di contenuti che ti invito a guardare fino alla fine perché ci darà una prospettiva di quello che potremmo aspettarci da qui ai prossimi mesi, in particolare in queste settimane quindi nella chiusura di settembre che è essenziale, fondamentale. Partiamo quindi subito parlando della Fed. La Fed come sappiamo ha tagliato i tassi di interesse, ci si aspettava un taglio dello 0,25 invece è stato tagliato di uno 0,5, quindi un taglio doppio rispetto alle aspettative e tendenzialmente un taglio di questo tipo fa un po' storcere il naso. Perché fa storcere il naso? Perché ci si aspetta sempre una motivazione dietro un taglio di questo tipo che è tendenzialmente una situazione in arrivo di crisi. Ho aspettato a fare il video perché generalmente quando escono cose di questo tipo io cerco di aspettare almeno un paio di giorni in modo che FOMO, FUD e tutte queste robe qui si scarichino e poi si possa vedere effettivamente cosa succede sul mercato. L'SP500 ha scontato relativamente bene la notizia, ora si sta muovendo, si sta facendo le sue solite cose quindi positivo da questo punto di vista. Cosa mi aspetto io? Voi sapete che il 2025 io ho questo sentore che sia un anno recessivo però effettivamente i dati non sono poi così tragici. Per comprenderli meglio però chiaramente bisogna andare a guardarli. Prima di guardare i nostri dati vediamo un attimo come si sta comportando Bitcoin. Bitcoin come vediamo è attualmente laterale, questo è un grafico giornaliero, sono su Pionex, un exchange estremamente interessante che utilizzo e di cui ho parlato tantissimo qua sul canale mostrando tutorial, un sacco di cose. Perché? Perché mi permette di automatizzare. Colgo l'occasione per dirti che c'è una promo fino alla fine di questo mese valida sia per chi non ha un account ancora su Pionex sia per chi invece ce l'ha già. Per registrarsi a Pionex non serve KWC, ti mostro velocemente anche la promo. La promo è un bonus complessivo di 330 dollari utilizzabili per fare trading tramite i trading bot futures. Cioè possiamo avviare un trading bot futures o copiare uno dei bot che ho costruito. Ti lascio tutti i link qua sotto con le varie strategie delle varie bot e poi tu puoi scegliere quello che vuoi. Ovviamente non puoi prelevare il bonus ma puoi andare a prelevare i profitti generati dal bonus. Quindi avvii un bot oppure copi uno dei bot che ti lascio qua sotto. Man mano che fai i profitti li puoi prelevare, se perdi vieni coperto dal bonus. Come viene erogato il bonus? Molto semplice. Per i primi 10 utenti che si iscrivono si ha un bonus di 30 dollari. Questo è solo chiaramente per chi si iscrive. Poi invece aperta anche a tutti gli altri, i primi 200 utenti che depositano almeno 200 dollari ricevono 100 dollari di bonus. Poi chi fa un trading volume di almeno 10k entro fine settembre ottiene un ulteriore bonus di 200 dollari. Qua comunque ti lascio il link qua sotto con questa pagina, puoi vedere poi tutti i dettagli. Passiamo al nostro grafico così vediamo come si sta comportando bitcoin perché poi questa è la cosa che ci interessa adesso. Allora ingrandisco, come vedo qua ho segnato due livelli più un terzo livello qua sopra. Questo è il mio famoso range di target che mi son dato che va tra i 76-78k fino ai 90k circa. Quindi questa è l'area entro cui mi aspetto possa arrivare bitcoin se ci muoviamo in un certo modo con l'intero mercato probabilmente tra ottobre e novembre. Se ci arriva prima sono contento ma manca una settimana, dubito che possa fare un pump anche se da queste aree potrebbe farlo però questa è l'area che sto tenendo sotto controllo. A ribasso le aree che sto tenendo sotto controllo sono una quella attuale in cui ci troviamo, deve riuscire a mantenere bitcoin quest'area qua che ti dico subito va tra i 62 più o meno e mezzo, 63 ai 64-65. Quindi tra i 62 facciamo e i 65k, cioè deve rimanere sopra i 60k sostanzialmente. Questa come vedi è un'area essenziale, chiave di questi movimenti qua. Noi sappiamo che ha un trend relativamente discendente in questo periodo però mantenere quest'area ci dà una possibilità in più di breakout e quindi andare poi a trovare il nostro target. A ribasso invece l'area estrema da tenere in considerazione è questa qua che va tra i 55 e i 58k più o meno. Quindi quell'area dove abbiamo visto di tanto in tanto tornare bitcoin e dove come puoi vedere qua qui, qui, qui sono andato come puoi vedere qui a ripescare liquidità. Qualcosina dampata su questi livelli perché mi aspetto che ci possa essere questo. Tendenzialmente da qui sì potrebbe esserci già una rottura, cioè fare una roba di questo tipo. Ora vediamo che in realtà questa candela qui segna debolezza, però potenzialmente potrebbe sorprenderci fare una roba di questo tipo e poi andare a rialzo. Anche se io penso, soprattutto in quest'area, perché vediamo delle scede molto grosse così come in queste aree, penso che si andrà a liquidare un po' di long, esattamente come si è fatto qua di qua. Quindi mi aspetto un calo veloce in quest'area per poi andare pian piano a recuperare e andare a scalare e colpire questo target. Questo è quello che io sto guardando e mi aspetto su bitcoin. Qui l'unica cosa che conta è che sia un calo repentino come questo, cioè questo è un grafico giornaliero, vediamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sono tipo otto giorni, in otto, una settimana, fai to, è andato giù dritto, pesante. Di qua mi aspetto una cosa di questo tipo. Perché? Perché mi permette di pulire leve, andare a levarsi un po' di torno gente che è incompetente sul mercato e andare poi a ripartire in questo modo, questa volta con più potenza. Se non ci arriva veloce ma ci arriva tipo graduale come può essere qua, ecco, e va, va, poi fa un po' così, poi fa un po' così, poi fa un po' così. Cioè questa roba qui diventa una rottura di palle perché rimane di nuovo un po' stagnante, un po' su, un po' giù e ritira avanti sempre la solita tiritera. Quindi per ricapitolare questo è quello che voglio. Tac, pam. E' il nostro target. Nice. Un ritorno anche banalmente sulla media qua dei 20 può essere un buon modo poi per rimbalzare. Questo me lo aspetto chiaramente nel caso in cui SP500 vada a performare e tutto il resto. Ora però abbiamo detto di analizzare dei dati. Io volevo darti giusto un'infarinatura di quello che sto guardando sul grafico. Andiamo a vedere però i dati dietro il grafico, che cosa ci stanno dicendo, che cosa ci comunicano. I dati come ho detto sono relativamente positivi, non sono così negativi da giustificare quei 50 punti base tagliati, a meno che non ci manchino delle informazioni. Li è chiaramente da vedere, però comunque sia ad oggi i dati non sono proprio tremendi. E' vero che mi aspetto recessione? Perché? Perché comunque vedo i mercati fortemente in app tutti. Cioè i prezzi degli immobili su. Materie prime sono su. Le azioni, SP500 e così via, sono su. I metalli, oro soprattutto, è su. E quando l'oro va su, tendenzialmente vuol dire che gli investitori stanno sentendo qualcosa, stanno percependo qualcosa, no? C'è puzza di bruciato. Tendenzialmente l'oro infatti sale quando ci si aspetta o si sta andando in fase di crisi. Noi abbiamo in questo caso tutto su. Il fatto che anche l'oro salga mi puzza. E' strano, cioè c'è qualcosa che non mi torna. Bitcoin, vabbè, sta lateralizzando un po', ma ci sta comunque, sta lateralizzando intorno al top e va più che bene. I dati vediamoli, vediamo che cosa ci dicono. Questo è un dato fondamentale da tenere in considerazione. Forse è l'unico che può aver senso al di là della liquidity, quindi alla global liquidity come si sta evolvendo. Per questo probabilmente l'unico dato attualmente interessante che dobbiamo tenere in considerazione indica l'unemployment rate, quindi il tasso di disoccupazione. Perché va tenuto in considerazione? Tu qua vedi in grigio tutti i momenti interessanti, in particolare vediamo l'ultimo, il 2008. Come vediamo, come dico sempre, dal 2008 ad oggi non c'è stata nessunissima crisi. Anche se c'è stata questa roba qui, cioè il tasso è cresciuto esponenzialmente durante il covid, di fatto poi non c'è stato nulla in realtà da qua ad oggi. E questo mi fa, mi fa storcere un po' il naso. È anche vero che i dati sono molto più bassi, perché comunque qua siamo partiti, come vediamo, tendenzialmente. Ogni volta che si è entrati in questo periodo qui, non andiamo a disturbare gli anni 50, ma partiamo dal 90 in poi, 90, il 2000 e così via. Come vediamo i tassi sono sempre stati intorno a un 5%, quindi più o meno è sempre stato questo, no, il livello leggermente più basso, leggermente più alto, ma più o meno è sempre stato questo il livello che ha poi sfociato in una crisi. Ora, in questa fase siamo in realtà ad un 4% circa, quindi finché ci teniamo su un 4%, comunque sotto il 5%, è tendenzialmente positiva la cosa. Quindi ci sta. Può essere che si siano tagliati i 50 punti base perché, come vediamo qua, è in salita. Quindi probabilmente potrebbero essere stati tagliati per evitare che vada a toccare questo famoso 5% innescando, come nel 2008, poi l'onda di disoccupazione crescente con tutto ciò che comporta. Quindi questa potrebbe essere una lettura, no, che vado a dare io perché i dati comunque non sono così negativi. Se andiamo a vedere anche, giusto per avere un'idea, eccolo qua, il job openings. Siamo relativamente in buona posizione, non siamo giù crollati. Qua vediamo questo periodo e questo periodo, quindi 2008, come vediamo più o meno si stava intorno ai 5.000. Quindi questo era il livello chiave. Poi 2020, idem, poi è partito su perché, e per questo dico tante volte, qui ci stava una recessione, cioè qua c'era una recessione. Poi si è saltata fuori la pandemia, tutto quello che vogliamo, stampi denaro e si è salito, ed è salito tutto, poi si è ripreso un po' tutto. Però in realtà, vediamo poi da quel momento in poi è iniziato a scendere, finché ci teniamo in questo caso sopra i 5.000 è un dato positivo. Sotto i 5.000 inizia a innescarsi poi tutto il casino, come vediamo qua, quindi le varie crisi. Qui vediamo già una buona distanza ancora, qua siamo intorno agli 8.000, penso sì, 7.600, quindi intorno agli 8.000, dagli 8.000 ai 5.000 c'è un buon margine. Quindi questi sono i due dati che sto tenendo sotto controllo in questo momento. Da un lato l'unemployment rate, dall'altro invece i job openings. Questi due dati insieme sono da tenere in considerazione per quello che potrebbe essere una recessione. Poi sappiamo che ottobre è tendenzialmente un buon mese, sappiamo, si chiama, o aptober apposta, sappiamo che è un buon mese, sappiamo che tendenzialmente tutto va un pochino bull to the moon, e quindi vediamo un po' come sconterà anche bitcoin. Personalmente il movimento di cui abbiamo parlato prima, che mi aspetto, quindi questo lancio verso l'alto, me lo aspetto per ottobre, ottobre barra inizi novembre, preelezioni, post elezioni, tendenzialmente i mercati vanno su, ma c'è questo dubbio di quello che sta succedendo. Cioè è una situazione estremamente particolare da comprendere, perché comunque abbiamo tutto che è relativamente to the moon, è comunque tutto alto. E come tutti i mercati sono alti, con dati di questo tipo, con un taglio di interessi che, attenzione, non è solo il taglio di 0,5 adesso, ma c'è anche in previsione entro fine anno altri 2-3 tagli, se non vado errato, da quantificare, ma sono altri 2-3 tagli. Quindi vuol dire che la Fed sta correndo per tagliare veloce i tassi, e questo mi fa supporre che non sia per l'inflazione, perché l'inflazione è rientrata relativamente, siamo 2,5-2,7% circa, leggevo l'altro ieri, quindi siamo relativamente rientrati rispetto ai picchi che avevamo, 5-7% l'anno scorso, quindi è rientrata un po', l'economia si è un pochino rallentata, i tassi di disoccupazione e i job openings sono su livelli, in particolare il tasso di disoccupazione è un 4,2%, è molto vicino a un 5%. Io quindi penso, nel mio piccolo, che questi tagli preventivi molto grossi, molto veloci, siano serviti o servano proprio per evitare di raggiungere quel 5%, cercare di tirare un po' più avanti la baracca. Poi comunque sappiamo come funziona, tagliare i tassi significa di fatto andare a tirar fuori più cash, quindi stampare, perché poi questo è, e quindi dovremmo vedere come sconta il mercato. Personalmente io mi aspetto comunque una pseudo recessione o una recessione vera e propria, vediamo come corrono questi livelli qui. Vediamo anche, tra l'altro abbiamo parlato di SP500, vediamo in generale ai mercati lo Shiller PE ratio, vediamo che è quasi ai massimi. Questa è un'altra cosa importante, questa qui giusto per intenderci è stata la bolla delle dot com, qui c'è 29, crisi 29, 30, quindi stiamo parlando di questi livelli qua, qui abbiamo un bel top, qui abbiamo un bel top, qua stiamo andando a ritrovarci il nostro bel top. Chiaro, bisogna sempre contestualizzare tutto ovviamente. Però i dati sono questi attualmente, vale la pena tenerli d'occhio per capire come potrebbe evolvere la situazione. Ripeto, uptober, secondo me ci sarà un uptober, cioè il mese di ottobre sarà un mese up. Sono curiosissimo di vedere come si comporterà Bitcoin anche nel caso in cui entrassimo in recessione nel 2025, sono estremamente curioso di vedere se si comporterà più come loro o se si comporterà come il compartimento azionario, quindi se effettivamente Bitcoin servirà come difesa dalle classiche turbolenze dei mercati. Questa è una cosa estremamente interessante che sto aspettando, che sto guardando. Che dire, aspettiamo, teniamo d'occhio questi dati, intanto occhio per chi specula nel breve termine sul mercato. Ora in questa fase ci sono due categorie di investitori, ci sono quelli che sono parzialmente fuori dal mercato, come me per esempio. Io in questo momento, come sapete, come ho già detto più volte, tengo parte della liquidità fuori in modo da essere pronto in caso di cini neri eventuali o crolli dei prezzi per poter andare a ripescare a prezzi più bassi. Dall'altra parte ci sono invece quelli che sono full invested attualmente, quindi totalmente investiti, e lì possono essere cavoli, nel senso che può essere doloroso se non ci sarà recessione, nulla, si va to the moon, fantastico, ci sta, bene. Se invece iniziamo a scendere diventa un po' complesso perché ci si ritrova con capitale investito. Nessuna liquidità da riutilizzare per comprare a livelli più bassi se i prezzi scendono, quindi ci si trova praticamente paralizzati a non poter né comprare più in basso, né poter vendere perché incassi perdita, e rimani lì ad aspettare che poi i prezzi tornino su. E questa non è una situazione sicuramente piacevole. Ecco perché, per non sapere né leggere né scrivere, io preferisco tenermi della liquidità da parte perché, come ho detto, sento odore di recessione, mi tengo comunque una parte di liquidità da parte. Se si entra in recessione, ok, ho la liquidità, ricompro a prezzi più bassi e sono felicissimo, quindi mi posiziono per il prossimo bull. Se non si entra in recessione, invece, ho comunque una parte ancora investita sul mercato, sono contento, mi faccio comunque il mio bull, è vero, magari prendo meno profitti perché una parte di liquidità l'ho tolta, non ce l'ho investita, ma chi se ne frega comunque ne prendo. Quindi meglio prendere meno, piuttosto che rimanere appeso con tutto in perdita. Questo è giusto il mio modo di pensare e di approcciare il mondo degli investimenti. Fammi sapere cosa ne pensi tu nei commenti, se sei più positivo o negativo, se ti aspetti anche tu una recessione o meno, scrivimelo qua sotto. Iscriviti se ti fa piacere al canale per ricevere tanti altri aggiornamenti come quello che hai visto oggi. Ti ricordo, ti lascio qua sotto il link per prendere il bonus di Pionex fino a 330 dollari, più un paio di video tutorial sul come avviare i bot e anche i bot in copy. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.